bello a tutti ragazzi eccoci qui su propante anche noi siamo stati contagiati da questo gioco no no perché io faccio props no perché no 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 tu sei co ma ti troverò fai io ti ho detto che io sono state a me per te se non ti immagini neanche non ti immagini che c'è bello di immagini non ti trovo ma dove sta mappa la loro questa mappa non la conosco madoni cose madonna mia perché non mi sale ma dove sono tutti non mi troverei mai stiamo scherzando è normale preso ahahah banale stupida spavano e vuoto spavano madonna mia posto quagli anni non mi troverete mai vi giuro non mi troverete non ci girare i piedi dai andò la conosco la prima volta manchi io spavano e mi troverete i piedi spavano e mi troverete i piedi si è vero non salta per niente e non mi sono fatto scoprire maledizione voleva andare no oddio la bottiglietta che scappa oddio il mandarino ti puoi impersonificare nel cosa nel jukebox oddio oddio guarda che scappano tutti dove? ho detto a sparare c'è voluto che scappò da 3 ore oh dai cambia team adesso cambia da solo eh ma allora allora 23 secondi prima dell'uccisione tutti quanti in mondo della gente delle persone aiuto non trovo un nascondimento ahahahah ahahahah ok 3 2 1 ok 3 no sta arrivando non è vero è perchè probabilmente è bannato quello che dice ma lo dice allora allora oh qua c'è il battere dentale io ancora non trovo Daniela mi ammazza allora ti troviamo in giro perchè si perchè non riesco a trovare l'oggetto premo eh allora venite qui ci scommetto che è successo dai ancora l'hai trovato no l'ho trovato però non mi vada a nessuna parte oddio oh cazzo allora ho stato spolando tutto il mondo oh cazzo mi hanno visto oddio ah dai che cazzo viva la maledetta bottiglietta oh cazzo qui è tutto apposto mi sembra oddio ah maledizione dove siete dove siete tu sei morto giusto si allora questo c'è uno stivale qui quale 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 che sta succedendo che sta succedendo ma io voglio dire se ci sono oh mio dio cosa vado questo oddio no l'ha preso stiamo accanto quando ce ne rimangono quando ce ne rimangono quello che è rita poi mi sto spagando vedere dove è questa sto scappando ma io non dovrei non l'ha visto che culo ha uno per cento io ho quindici perché tu sei si tu sei proprio stessimo e tu sei fuori di colpi diciamo caspita sia quando ci rimane 1 1 uno solo ma dove lo trova quando stanno a 1 aspetta che ci fa questo ma uno di questi adesso quando questo non lo troverete mai è impossibru ha visto qualcosa muoversi che mira di merda dai maledizio senti che mira di cacca che ha no ho fatto esplodere eh però l'ho ucciso maledizio si l'altro non lo vedo neanche io no perché si sta muovendo è stupido è ma tanto è finito non lo vedo neanche non lo vedo neanche non lo vedo neanche non lo vedo neanche non lo vedo neanche